Bella ragazzi, sono... Bella, io sono Xenic Ah no, aspetta, scusate. Ecco Xenic No, no, non ci sto. Sei un po' ingrassato Xenic Comunque, oggi siamo a Piazza Venezia E siamo qui per prendere i Pokémon di Roma Con me ci sarà il grandissimo Xenic Frax Fraxenic Fraxenic E ci sarà anche il grandissimo Ricky Riccardone Riccmaidrant Adesso c'è una palestra a qua nei dintorni Se vogliamo la catturiamo, ci proviamo Catturiamo la palestra Se non la vogliamo, non lo facciamo Siamo uomini libri in un paese libero Va bene Allora, io direi di partire col combattimento, dai, eh Partiamo col combattimento Allora, io c'ho Flareon Voi con qui stare? E piace massa contro Pinsir Voi con qui stare? Sono entrato, sono entrato, io pigiotto Io sto con Pinsir Io tipo l'ammazzo Pinsir con Flareon Però tutti i suoi allo spazio Super effettivo, eh, proprio Spacchiamo, eh Già morto Guardate subito Porco cane Cioè, è proprio mortissimo Allora Vai, questo era difficile Vai, oh, Doduo me sta a fare male, eh Electra Buzz Dodo uccide i tuoi Regà, Doduo, Doduo non muore Cioè Oh Questo, Electra Buzz È super efficace, ma Sì, 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 mortare, eh Mortino, eh Mortino, non lo sono ammazzato Sì, 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 eh Morire male, eh Mortissimo, eh Vai ad Angelare, dai È morto, è morto È angelona, mortiamo No, regà, non ci credo Rimane con un HP No, è buggato pure questo Non mi dì Rimane con un HP Dai, perché si bugga È finito Rimane con un HP Regà, purtroppo Purtroppo c'è sta Questo bug del cazzo Che, guardate Io faccio così E non puoi fare un cazzo C'è questo bug di merda Che, per esempio, non ci fa Prendere la palestra Quindi, niente Adesso abbiamo fuggito La palestra E staviamo under culo Contatto, questo è mi parla di erro Non riesca a parlare Porca puttana Da zitto in attimo C'è sta un manky vicino Quindi, devi avventurarci Verso manky Andiamo da Greta Greta, dai Andiamo dai Greta, arriviamo da te Greta Greta, Gretino Gretello Gretinello Gretino Dove sei? Eccolo No No, 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 no Sta uno No, deve comparire Eccolo, eccolo Ce l'ho Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Ce l'ho Dratini, dratini Non riesco a prenderlo Guarda se ci riesco a cliccare Porca cazzozza Guarda Sta accanto al pokestop Sì, l'ho preso Eccolo, eccolo 220 Aspetta 220 Sì, è gigantesco Innamorati Bello Ok Ok Guarda sta merda come doggia Momento suspense Momento suspense E' mio E' mio ragazzi E' mio Quello qua Il grandissimo Dratini al 220 Porca troia Tipo una presa assurda Raga Cioè questo qua è tipo uno Di pokemon Più rari che ci sta Che poi si evolve in dragonair Quindi de cristo proprio Ci siamo Calcolate che in zona Adesso ci abbiamo Un Widow Ben merda Poi c'è Un Frax C'è il vaticone Sono crabbi Raga su Su Tmolli Tmolli Un passo Ci siamo eh Allora dovete sapere che oggi pomeriggio Io ho provato a prendere Tmolli Mi è scappato questo pezzo di merda Quindi adesso se non lo prendo Mi metto un fote sotto Praticamente Davide eccolo Ci sta Nel muro Lo vedo lo vedo lo vedo Eccolo qua Eccolo Raga no ci credo Mi è scappato Eccolo In testa a lui In testa a Riccardo Vai Mi è scappato Aspetta fermo Zitto zitto Sto più aiuto Con due scappone Se calcola se te scappa 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 fattene però No dai Sto al 2.94 Sta merda E mannaggia stronzi Hai sempre avuto un'ottima mira Le siamo Oddio l'ho preso Incredibile Guarda che carino Guarda che bello Mo c'ho tutte e due In mezzo a palle Stile Aspetta C'ho sia Tmolli che Tmolli Dai Marco stronzate Dai Ecco E Tmolli ha preso tipo Tu giorni C'è anche Lui Al 294 Oh Chi? Tmolli Volemo fa gara? Volemo fa che è qui? Niente al secondo a me non mi fa più prendere Andiamo adesso alla fontana di Trevi E vediamo se riusciamo a prendere qualche pokemon d'acqua Tipo dentro alla fontana E se c'è sta un Lapras Ci sarà un Lapras Ma secondo me torriamo a 99 Geridos Mi è riapparso Golbat Io ci riprovo nel frattempo Che andiamo a fontana Vediamo se ne abbiamo in testa questo No Vediamo la Frax? Un po' più Qua? Ok Come catturare Frax e Golbat insieme? Tu piscioni con la fava due Attenzione 1,2 E l'ho preso subito Andiamo a comandare Allora regà Fontana di Trevi Ci siamo E voi direte Pokemon Pokemon d'acqua? In realtà No C'è solo un crabby di merda Che ho trovato anche sotto casa mia A 20 km dal mare Quindi Un po' una merda È stata una delusione Fontana di Trevi Mamua Arrivati al Pantheon E mo' vediamo Che Pokemon ci sono usciti Allora Non c'è niente di interessante Neanche al Pantheon Ma che fa Roma Ciao regà Io vado a conquistare La palestra del Pantheon Ciao Ma ma Comunque Roma fa schifo ragazzi Cioè non si trova niente Oh Aspetta un Zapdos Preve si trorebbe schifo Un uovo Quindi lo apriamo insieme Facciamo Leg opening E Quindi Grande Mega power Comunque Quanto siamo? Qua 10-100 Mancano 40 metri Regà Cioè famose le insieme E vediamo Io con questa in mano E Stile È uscito l'uomo regà Vai Apriamo Apriamo Uovo Uoviamo Attenzione Ho appena Piciato Che merda Ma che cosa è questa cosa Bravo Bravo Apri uova da 2 km Mongoletto Che cosa è Bravo Ho appena piciato Bravo Che merda E qui abbiamo smesso di registrare Perché Xenic Perché Xenic Non c'era nel video E tutto quanto E quindi Prima di lasciare Magari dislike Ci sarà una spiegazione Non è che ci siamo dimenticati O non vogliamo dare spiegazioni a nessuno Per sapere se vi è piaciuto questo tipo di video Che magari potrò riportarlo in futuro Sempre con Frax Con Dread O con qualcun altro Lasciate like se vi è piaciuto Noi ci vediamo al prossimo video Bella